Ripartire dalla strada è il tema della decima edizione della Fiera del Volontariato, in programma il 12, 13, 14 aprile alla ex caserma Musso di Saluzzo. La manifestazione organizzata dal CSV Società Solidale per promuovere e festeggiare il volontariato della provincia granda, quest'anno ha ottenuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Oggi siamo pieni di informazioni però poche persone stanno ad ascoltare e quindi ripartire dalla strada vuol dire ripartire dal territorio, ripartire dalla gente, sentire le problematiche della gente per fare le proprie. Anche per quanto riguarda il volontariato fermarsi un attimo e ripartire sentendo veramente la gente, il territorio e le problematiche di tutti i giorni. La manifestazione avrà alcuni importanti momenti di riflessione, l'inaugurazione che vedrà l'intervento di Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione con il Sud, e la presentazione del libro di Suor Giuliana Galli, Non nominare amore in vano. Il tema della strada sarà ripreso anche attraverso l'educazione alla sicurezza stradale. Il sabato mattina Alessio Tavecchio porterà la sua testimonianza di disabilità a seguito di un incidente automobilistico. Il sabato pomeriggio, nel corso del convegno, carenza di risorse o carenza di idee, le associazioni di volontariato potranno confrontarsi con esperti del settore riguardo alle difficoltà del no profit di fronte alla crisi economica. Questo centro servizi volontariato che raggruppa le varie associazioni che sono spesso e specie in questo momento un po' il sale della società. Direi il sale è anche un punto di osservazione molto importante attraverso cui ci possono venire segnali di quello che sta avvenendo e aiuti anche per intervenire. Non mancheranno momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Per maggiori informazioni visitate la sezione dedicata sul sito www.cswsocksolidale.it